Parliamo con la professoressa Nicoletta Lanciano che è docente di didattica della geometria dello spazio nel corso di laurea di scienze dell'educazione e della formazione. Perché parliamo con la professoressa Lanciano? Perché si ha colpito molto un passaggio del recovery plan dove si dice sostanzialmente questo, che per far fronte alle difficoltà, alle carenze che gli studenti oggi incontrano, bisognerebbe recuperare ad esempio, e cito proprio testualmente, i metodi di Emma Castelnuovo per l'insegnamento della matematica nelle scuole. Allora ci ha un po' incuriositi la lettura di questo passaggio e quindi parliamo con la professoressa Nicoletta Lanciano perché lei, oltre ad essere docente universitaria come abbiamo detto, è anche la responsabile del centro di documentazione Emma Castelnuovo che si trova presso la sede nazionale del movimento di cooperazione educativa. Allora la prima domanda che le faccio professoressa è questa, ma a lei fa piacere che in un testo importante come il recovery plan ci sia questo riferimento così esplicito e così chiaro ad Emma Castelnuovo, immagino di sì, ci spieghi perché. Mi sembra comunque una buona prospettiva far conoscere e far arrivare a tutti, a tanti insegnanti, questo nome, perché il lavoro di Emma Castelnuovo è stato indubbiamente, lei ha insegnato la matematica, però ha coinvolto tutta una visione della scuola in cui in particolare rispetto alla matematica lei ha sempre sostenuto che non dovesse essere un'arma selettiva come da secoli è, ma piuttosto qualcosa che attraverso il lavorare direttamente con le mani da parte dei ragazzi e il guardarsi intorno, quindi di utilizzare gli occhi e non tanto la parola, ma piuttosto il fare e tutti possono avere un rapporto positivo anche con questa disciplina che appunto invece molto spesso diventa uno strumento di potere e di segregazione e di differenziazione sociale. Emma ha sempre sostenuto che le mani sono più democratiche della parola, per cui far lavorare, far tenere in mano un oggetto e osservare è qualcosa che tutti possono fare, anche se non hanno un linguaggio molto evoluto, anche se sono da poco arrivati nel nostro paese, non parlano la nostra lingua, anche se sono ragazzi che, come lei spesso diceva, non hanno libri a casa, sono magari i primi della loro famiglia che hanno l'opportunità di studiare. Senta, ci dica due parole però anche sulla vita di Emma Castelnuovo, perché per molti di noi il nome di Emma Castelnuovo è arcinoto, forse per i più giovani lo è un po' di meno. Ecco, ci dica qualche cosa su chi era Emma Castelnuovo, che cosa ha fatto nella sua vita? Allora parliamo di una donna di famiglia ebrea, figlia d'arte, nel senso che suo padre Guido Castelnuovo è un grande matematico, suo zio Federico Enrico Estel anche, e quindi lei ha respirato questa matematica fin da piccola e anche però il loro impegno etico, sociale, nel lavorare da un lato sulla matematica altissima, sono stati due grandissimi matematici, ma anche per l'appunto sulla scuola, sull'università e sul senso proprio dell'importanza del porsi domande, dell'interrogarsi e l'importanza per tutti di incontrare la cultura come qualcosa che fa bene, che è importante proprio per tutti, quindi anche nei momenti della guerra, nei momenti difficili in cui gli ebrei sono stati cacciati, gli ebrei che insegnavano sono stati cacciati dalle scuole pubbliche, ma tutti i ragazzi sono stati cacciati dalla scuola pubblica italiana durante il fascismo, dopo le leggi razziali, lei ha iniziato ad insegnare proprio nella scuola della comunità ebraica che si era organizzata, perché una delle cose che più premeva a Guido Castelnuovo per esempio e a Federico Enrico, era non lasciare i giovani senza la scuola. Senta professoressa, quindi Emma Castelnuovo non è stata soltanto una grande matematica, ma è stata anche una pedagogista, è interessante questo legame, questo connubio fra matematica e pedagogia, non sempre c'è questo legame così stretto. Molto onestamente, quindi con questo grande spirito scientifico che lei aveva nel fare scuola, subito si è resa conto che i ragazzi per esempio non erano interessati al modo in cui si insegnava per esempio la geometria, era troppo astratta, si partiva appunto lì nella superficie, dagli elementi di Euclide, non c'erano spesso figure nei testi e quindi onestamente guardando questo non interesse, essendo invece lei molto appassionata e sapendo quale poteva essere il godimento dell'incontrare una matematica in modo bello, hanno iniziato lei con alcune amiche neolaureate a inventare quello che noi oggi chiamiamo i corsi di autoformazione degli insegnanti che poi per esempio nel movimento di cooperazione educativa è proprio una delle forme dell'aggiornamento continuo. Professoressa, ma Emma Castelnuovo aveva certamente conosciuto la pedagogia di Maria Montessori, i metodi didattici che Montessori usava, i materiali che aveva ideato, che aveva costruito per aiutare i bambini ad imparare. Che cosa pensava Emma Castelnuovo dei materiali Montessori? Ce lo dica perché è una questione interessante questa. Per esempio lei rispetto al materiale Montessori faceva poi delle critiche da matematica perché gli oggetti della Montessori non sono dinamici, gli oggetti di Emma sono appunto, sono tutti oggetti che hanno in sé la continuità e quindi possono arrivare ai casi limite in cui per esempio una superficie sparisce dietro una linea e questo arrivare in alcuni casi all'infinito, in altri casi allo zero e comunque però avere la continuità del movimento per lei era un punto fondamentale. E invece nei materiali Montessori di solito ci sono delle situazioni statiche separate, quindi ha avuto anche modo e ha scritto nel suo didattica della matematica un libro degli anni 60 con cui ha vinto il premio dell'Accademia dei Lincei e che è stato recentemente ristampato. Questo ci fa molto piacere perché appunto è un precedente rispetto a questa citazione da cui siamo partiti. In realtà negli ultimi anni l'Unione Matematica Italiana ha ripubblicato due dei suoi libri importanti, ecco, qui sono Pentole e ombre formiche e Didattica della matematica. L'ultima domanda è questa, lei è la responsabile del centro di documentazione Emma Castelnuovo che si trova presso la sede nazionale del Movimento di Cooperazione Educativa. Che cosa c'è presso questo centro? Cosa hai raccolto? Quali documenti ci sono? Ecco, ce lo descriva brevemente. Sì, Emma ha lasciato scritto, che voleva lasciare tutti i suoi libri, al Movimento di Cooperazione Educativa con cui ha collaborato tanto, perché è un'associazione che veramente si occupa degli insegnanti. Quindi i suoi libri ha voluto che rimanessero tutti insieme, proprio per mostrare di che cosa si nutre un insegnante anche di matematica. e quindi abbiamo ereditato con molto orgoglio, ma anche con molta preoccupazione in un primo momento, perché come si può poi vedere dalle immagini della sua casa, i libri erano tanti, e abbiamo avuto quindi più di 3.000 testi e circa altrettante riviste in tutte le lingue di matematica, di didattica della matematica, ma anche di didattica in generale, appunto di pedagogia, anche però tutti i libri di lettura, quindi tutta la letteratura, e anche lì ci sono libri in tante lingue, lei leggeva molto bene, parlava francese e spagnolo in particolare, e poi ci sono anche moltissimi libri d'arte e tutte le guide turistiche di tante parti del mondo con cartine d'epoca in cui i paesi hanno dei confini diversi da quelli di oggi, e tanti libri sui gatti, sulla grande passione, sulle piante, e quindi tutto questo è adesso nella nuova sede del movimento di cooperazione educativa e fa parte, la biblioteca Emma Castelnuovo fa parte del centro di documentazione della pedagogia popolare, di cui è responsabile Giancarlo Cavinato, io sono responsabile per la parte della biblioteca di Emma, e oltre a tutto questo materiale cartaceo abbiamo alcuni dei suoi materiali originali, e tutto questo materiale è a disposizione, è intanto recuperabile sulla bacheca Emma Castelnuovo nel sito del movimento di cooperazione educativa, e il materiale è visibile, si può toccare, copiare, abbiamo interpretato questo, l'ascito di Emma al movimento di cooperazione educativa proprio come mettere a disposizione di tutta la comunità, quindi intanto in questi anni, Emma è morta nel maggio del 2014, nell'aprile del 2014, lo abbiamo schedato e abbiamo fatto dei PDF di molti testi, che quindi sono a disposizione di tutti, appunto, raggiungibili attraverso questa bacheca. Bene, ringraziamo la professoressa Nicoletta Lanciano e facciamo a lei e al centro di documentazione intitolato a Emma Castelnuovo i migliori auguri perché davvero l'insegnamento della matematica possa essere uno strumento di diffusione della cultura, ma anche di riscatto. Penso di poter usare questo termine per tanti giovani che magari hanno difficoltà a scuola per le più svariati ragioni. Lei prima citava, per esempio, anche il caso degli studenti di lingua non italiana che vivono nel nostro paese, ecco, mi sembra un dato interessante. Possiamo concludere dicendo che in un certo senso la matematica è anche uno strumento di integrazione fra le culture? Possiamo concludere così, è giusto? Assolutamente sì, anche se dobbiamo tenere presente che spesso gli stranieri vengono da lingue nelle quali non ci sono alcuni dei termini della nostra matematica, oppure hanno delle strutture di organizzazione, di schedatura degli oggetti diverse, con categorie diverse dalle nostre. Quindi in realtà siamo molto attenti anche all'etno-matematica e al non pensare anche attraverso la matematica che la nostra cultura occidentale sia l'unica che esiste. Perfetto. Grazie. 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 Grazie.